fermo 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 stia calmo stia calmo non si agite e ci do subito tutti gli euro che c'è nel portafoglio ma che cosa dici menchione? questo non era da rire si è giunghezza di santa rosalia un colpo mi stava venendo a me lo sa? masturba te come? masturba te non ho capito che devo fare? ho detto che ti devi masturbare e ti metti da marzo ma hai capito? ma no no subito stia fermo come vuole lei? ma masturba ma no ma masturba non ce la faccio te l'ho appena fatta non ce la faccio un uomo grande e grosso come a te una volta lo faci masturba l'attivamento ti faccio saltare lo cervello masturba te masturba te masturba te masturba te Un attimo. Ammazzare tutto l'ora. Con un poco di concentrazione lo rifi. Cammela! Sì, Santuzzo. Vieni a casa. C'è questo signore che si è offerto gentimenti di darti un passaggio fino a Ciavane. Grazie. Fisca, che femmina. Mia moglie. La vedi che gente di cuore si trova sempre. Amo nena, picciola.